Salve, sono Fabrizio, sono uno studente della Cisco Academy di Napoli. Sono Miriam e sono una studentessa di informatica. Le mie prospettive lavorative erano comunque quelle di lavorare nell'ambito del networking. Frequentando questa Academy ho consolidato questa mia idea e ho visto anche una tangibile possibilità di avere molti più sbocchi lavorativi rispetto a prima che entrassi in questa Academy. In questa Academy abbiamo avuto la possibilità e il piacere di poter anche accedere a dei corsi relativi ad esempio all'IoT, relativi alla programmazione Python. In queste allele comunque ci siamo sempre trovati molto bene, abbiamo trovato un ambiente che è estremamente confortevole e accogliente. Abbiamo anche la possibilità di toccare con mano, di connetterci proprio fisicamente ai dispositivi che in realtà poi possiamo sia utilizzare in maniera virtuale ma anche proprio in maniera fisica, toccandoli con mano. La cosa che mi piace di più di questo corso è la metodologia di studio, è basata molto sulla pratica. Abbiamo dei progetti, dobbiamo lavorare in gruppo, cooperare e aiutarci per portare avanti questi progetti entro un certo limite di tempo. La Lighthouse Academy, che nasce all'interno del Cisco Digital Transformation Lab, è stata allestita basandosi su quattro principi. Didattica classica, esperienze laboratoriali su apparecchiature reali, certificazione industriale e challenge con aziende e stakeholder territorio. Grazie a tutti.